a Pasqua. Ragazzi buonasera secondo video di giornata avvicinandosi a Pasqua avvicinandoci a Pasqua abbiamo un po' più di tempo un po' più di lavoro di ufficio in questi giorni e ne approfitto eh per fare qualche video in più eh come fanno quelli bravi boom 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 Paolillo in questi minuti ha fatto una dichiarazione pesantissima l'extra amministratore delegato dell'Inter ha fatto il punto sul presente futuro eh dei dei neri azzurri poi Paolillo se dice delle cose pro Zang va bene quando poi dice cose che non sono pro Zang non va più bene eh il signor Paolillo ha appena dichiarato Inter tutto in mano ad OCTRI quello ormai lo abbiamo constatato tutti lo sappiamo tutti che OCTRI sta conducendo il gioco come ragazzi OCTRI se ci sono state delle offerte lo sa meglio di Zang perché c'ha due consiglieri nel CTA e se c'è e se OCTRI ha il compratore è scontato dire non è che ha il compratore da una settimana o due o lo sta cercando ora OCTRI ha un compratore da tanto tempo comunque il signor Paolillo cosa dice? Oltre eh a dire Inter è tutto in mano ad OCTRI per il futuro dell'Inter penso solo ed esclusivamente a capitali arabi escludendo a priori capitali americani quindi vediamo quali saranno se saranno questi capitali arabi io lo ripeto non scappo io al di fuori degli arabi non vedo possibili acquirenti per l'Inter perché l'Inter è un top club è in hype ha raggiunto un livello molto alto ma ha una situazione debitoria devastante dove ci devi mettere subito mano eh e servono c'è chi prende l'Inter deve mettere a budget un investimento di due miliardi secondo me due miliardi e mezzo solo per i primi due anni quindi mi rimane difficile ecco pensare oltre agli arabi come acquirente qualche di un altro poi questo lo vedremo come quando dicevamo che OCTRI aveva il compratore e come abbiamo detto tante altre cose poi attenzione perché c'è anche Ziliacus con il parrucchino primavera estate che ha rilasciato delle dichiarazioni importanti anche lui dieci minuti fa dove dice che io che ha fatto un'offerta eh dove dice che ha fatto un'offerta anche lui eh attenzione fatemi vedere perché me l'hanno mandata ecco eh smentisce ho nominato per consulente una delle più grandi banche di investimento del mondo dice Ziliacus ho lavorato a stretto contatto con loro e con diversi soggetti Ziliacus non ha voluto svelare quali fossero questi partner misteriosi ne ha indicato solo una provenienza Medio Oriente anche lui Medio Oriente quindi eh che Ziliacus dice di aver fatto un'offerta ufficiale ma eh secondo me lui ha messo lui voleva mettere cinquantamila euro cioè Ziliacus ascolta fai una cosa cioè sei diventato una comprati una discoteca e non rompere i coglioni Ziliacus non la puoi comprare l'Inter non voglio parlare del mandato di arresto a Singapore c'è non c'è perché anche te c'hai i tuoi casini la app per i tifosi dell'Inter a un euro l'uno comprati una discoteca oppure in società con Zango una bella pescheria ma basta andiamo capisco il parrucchino primavera estate ma basta Ziliacus hai fatto più live di me negli ultimi tre mesi su 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 YouTube fai bravo andiamo ma cosa vuoi comprare te ho una discoteca o una pescheria scegli te Ziliacus sui zaghi sui zaghi eh rinnova non rinnova eh seconda stella e rinnova eh mi sono cioè tante dichiarazioni mh cosa ti devo dire sui zaghi Giuse cosa ne pensi in zaghi eh una parentesi vi ho rimesso il code calma Giuse il code per entrare in chat calma eccolo qua il code scansionami il code vieni in chat e fai due chiacchiere con noi è aperta a tutti non tutti la possiamo pensare alla stessa maniera su quello non ci piove c'è anche qualche pechinese nel gruppo non ci sono problemi quindi anche se sei di Pechino viene in chat e facciamo due chiacchiere non ci sono problemi è aperta a tutti sui zaghi voglio dire solamente due parole l'ho criticato tantissimo il primo anno e un po' è molto anche il secondo anno ma devo dire che dal punto di vista tattico questo allenatore è migliorato tantissimo è un allenatore che si aggiorna è come una donna che una donna un uomo uguale che invecchia ma che si cura che si tiene che fa sport che mangia bene lui è uguale si aggiorna continuamente studia si mette in discussione so che non sembra ma vi garantisco che è così ha dovuto poi alla fine gestire anche un mezzo cambio generazionale in zaghi perché poi ha amalgamato eh over trenta con dei ragazzi è riuscito a rendere Bissec presentabile a livello tattico perché Bissec quando è arrivato era scordinato correva male io a volte lo vedevo correre all'indietro e mi mettevo le mani nei appelli lo ha reso soprattutto in fase propositiva lo ha reso non presentabile di più deve migliorare in fase difensiva ma sai sono ragazzi giovani come Buchanan se per ora non lo fai giocare è perché non ci crede più di tanto in Buchanan eh ha accettato giocatori visto la situazione economica che all'Inter eh speriamo anzi che aveva l'Inter voglio parlare al passato ha accettato giocatori eh che con il suo calcio non c'entravano nulla perché in quel momento la società poteva fare acquisti del genere Gosenz prendere Gosenz quando ti serve un attaccante e non pagarlo ne abbiamo parlato tantissime volte oppure vederci arrivare attaccanti come Lukaku eh che non è un attaccante per lui a lui servono attaccanti e sappiano giocare anche in area di rigore nello stretto Lukaku è un elefante in mezzo eh è un elefante messo in una cristalleria quindi lui si è visto arrivare giocatori che con il suo calcio non c'entravano a nulla lo stesso Correa Correa sicuramente lo conosceva bene ma se avesse potuto scegliere secondo me anche lui non avrebbe preso Correa quindi per come la vedo io a me piacerebbe vedere Inzaghi e bisogna aprire una parentesi e risottolinearlo sempre tutte le volte non è che arriva una nuova proprietà e prendi Mbappé messi per gli ultimi mezzi per gli ultimi trenta minuti Holland la nuova proprietà qual è il grosso può fare una nuova proprietà lavorare sul debito e aumentare i ricavi ehm portare sponsor cosa questa proprietà non può più fare sento parlare di Belson ancora oggi da qualche portale web ma io di Belson ufficiale non vedo nulla poi magari sarà Belson non lo vedremo ma questa ormai è una proprietà che non può fare più investimenti non può fare più eh conferimenti di capitale non può lavorare sul debito ed è un frontale annunciato era un frontale annunciato con questa proprietà quindi una nuova proprietà può lavorare sul debito può progettare può comunicare cosa che all'intero ormai eh è scomparsa la comunicazione non esiste più e può fare tantissime cose e penso che da subito possa comprare almeno dei giocatori da 20 milioni perché noi ad oggi siamo in difficoltà anche a comprare i giocatori da 20 milioni e se compriamo uno da 20 milioni dobbiamo venderne per 60 per 60 70 quindi sicuramente una nuova proprietà ti porta dei vantaggi poi ci sono comunque dei paletti da rispettare e quant'altro questo è quello che vi volevo dire ragazzi ora vedrete che quelli del clan di Pechino diranno che eh Maremma ragazzi quelli del clan di Pechino diranno che Paolillo eh a 70 anni che non è più lucido eh l'ex amministratore delegato del Nite ma vedrete che ora quelli di Pechino lo sminuiranno perché lui dice gli unici investitori anche lui alla fine dice le cose che penso anch'io cioè oltre gli investimenti degli arabi nell'Inter chi è che può mettere soldi chi è che può affrontare una situazione del genere ci becchiamo non lo so non lo so dove il cinese non so quando ci becchiamo ma ti garantisco ci vediamo presto se vuoi venire in chat eccolo là scansionami il code e vieni a fare due chiacchiere perché fino alle due di mattina ieri a parlare di calcio in chat siamo malati ciao Inter Grazie Grazie Grazie.